Non deve pensare. Torno subito. È solo tempo perso. Come parlare a un muro? Ne ho interrogati già cinque, non sono riuscito a sapere un accidente. Tu lo sai perché tu, Robin, non hai finito in galera per la faccenda del greggio? No. Sarebbe bastata una testimonianza per farlo finire dietro le sbarre per un bel po'. Betzold. Sì, lui. Se avesse confessato avrebbe potuto concordare la pena. Ma? Ma non l'ha tradito. Capisco. Cominciò a pensare che tra loro non ci fosse solo una relazione d'affari. Esattamente. Quei due sono amici.